Musica Dal governo grande attenzione per la Calabria, il ministro dell'interno Luciano Lamorgese a Catanzaro ha firmato in prefettura il protocollo d'intesa per l'attivazione del numero unico di emergenza 112 con la regione Calabria. Il NUE 112 sarà attivo nella cittadella regionale e sarà gestito da azienda zero. Dopo la firma del protocollo il ministro ha presieduto la riunione del comitato per l'ordine della sicurezza pubblica incontro con il procuratore della repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri. Reggio, fiamme e minacce nel tito Minniti, in tilt il traffico aereo e difficoltà per i voli in transito nello scalo. Providenziale l'intervento dei pompieri e avviate le indagini per comprendere le cause del ruogo. In Fumo nel 2021 il 37% dei boschi, il report diffuso dall'ISPRA all'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, certifica il dramma degli incendi in Calabria lo scorso anno. La nostra regione è prima per superficie forestale distrutta, seconda per numero di incendi, drammatico il bilancio in Aspromonte, distrutto il 10% del patrimonio boschivo. A Corigliano Rossano l'incobo rifiuti nella città della Sibaritidello stoppa i conferimenti nell'impianto di Bucita complica raccolta e gestione dei rifiuti. In crisi la raccolta differenziata afferma da appena il 35%, si pensa soluzioni tampone costose. Cattedrale di Cosenza, il racconto lungo 800 anni, inaugurata nella città dei Bruzzi della mostra 1222-2022, TAM Antiqua, QAM Nova. Nell'esposizione, che durerà fino al prossimo 30 settembre, è presentata al pubblico una visione inedita del Duomo Cosentino. Opere e ritrovamenti venuti alla luce durante le recenti campagne archeologiche. Edizione serale dell'altro Corriere Tg. Buonasera, ben ritrovati come sempre dalla nostra redazione. Lo avete sentito dai titoli del sommario, apertura che questa sera dedichiamo alla visita in Calabria e questa mattina in prefettura Catanzaro del ministro dell'interno Luciana Lamorgese che appunto questa mattina nel capoluogo in prefettura ha firmato un protocollo destinato all'attivazione del numero unico di emergenza. Il ministro ha poi anche presieduto quello che è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sentiamo tutti i dettagli nel primo servizio di questa sera. Un numero unico di emergenza è il 912 che sarà attivato nella cittadella regionale e sarà gestito dall'Azienda Zero. A firmare il protocollo e rendere possibile l'iniziativa è giunta stamane a Catanzaro in prefettura il ministro degli interni Luciana Lamorgese che ha sottoscritto il documento con la vicepresidente Giussi Princi in rappresentanza della regione Calabria. L'attivazione della NUE 112 deriva da una direttiva europea ed in Italia mancano all'appello due regioni. Il numero serve a semplificare la vita dei cittadini e consentire interventi immediati in caso di necessità. La ministra dell'interno Lamorgese ha anche presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale ha partecipato per la prima volta il neo sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Per il ministro il governo nazionale sta riservando alla Calabria grande attenzione. Oggi abbiamo fatto il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica con la presenza del sindaco che ho ringraziato e a cui ho augurato un mandato positivo perché oggi veramente era il primo giorno. Sono state affrontate le problematiche del territorio insieme alle forze di polizia, ai procuratori, procuratore generale e procuratore della Repubblica. Ho trovato un clima di grande collaborazione. Tra l'altro stamattina abbiamo firmato il protocollo sul 112.9. È un protocollo operativo molto importante su cui anche la regione ovviamente ha lavorato, ha dato anche delle risorse. Il ministero dell'interno ha fatto la sua parte con il ministero per lo sviluppo economico. Oggi con questo sistema ci sarà un filtro nelle comunicazioni. Per quanto riguarda il 112.9 su tutto il territorio nazionale abbiamo avuto 19.000 chiamate nel 2021. Quindi pensate che vantaggio per il territorio e sono molto lieta che anche la Calabria sia al passo. Dunque queste le novità e a margine dell'incontro organizzato questa mattina in Prefettura è intervenuta ai nostri microfoni anche la vicepresidente della regione Calabria, Giussi Princi. Sentiamo cosa ha detto. È un progetto, dicevo, al quale la regione ha creduto stanziando 13 milioni di euro perché la centrale unica di risposta verrà attivata presso la cittadella regionale quindi siamo già pronti con tutta quanta l'infrastruttura fisica, tutta e tecnologica. I tempi, il protocollo prevede che entro i sei mesi debba essere attivo il percorso che verrà poi gestito da azienda zero e quindi dal nuovo commissario Profiti. Quindi questo progetto vede un ulteriore protocollo con la regione Lombardia perché è stata investita la REU, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della regione Lombardia. Bene, voltiamo pagina. Spazio adesso alla cronaca. A Castrovilla i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni di origini campane indiziato del reato di truffa aggravata. Con l'inganno, secondo gli inquirenti, sarebbe riuscito ad raggirare un'anziana di 85 anni facendosi consegnare una somma cospicua di denaro e vari gioielli. Tua figlia si trova alle poste centrali di Castrovillari e ha bisogno di soldi per effettuare un pagamento altrimenti deve corrispondere una multa molto salata. E questo l'inganno con il quale un 31enne è riuscito a raggirare un'anziana signora di 85 anni facendosi consegnare una cospicua somma di denaro e vari gioielli. Al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari i carabinieri insieme ai colleghi di Potenza hanno eseguito un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne campano accusato di truffa aggravata e per il quale si sono aperte le porte della casa circondariale di Matera. Tutto è partito dalla denuncia della donna che aveva consegnato quasi 10.000 euro in contanti e vari monili in oro tra cui le fede inunziali. Alla vittima del raggiro era stata prospettata la presenza della figlia in un ufficio postale e poi una multa combinata a suo carico. Il trentenne è riuscito con l'aiuto di alcuni complici a farsi consegnare del denaro direttamente dall'anziana raggiunta addirittura nella sua abitazione. La donna dopo aver telefonato alla figlia ha capito di essere stata vittima di una truffa ed ha immediatamente avvisato i carabinieri. Innanzitutto è necessario che sappiate che il truffatore si identifica come una persona ben vestita, educata, gentile. Dice di essere un appartenente alle forze dell'ordine, un avvocato, un funzionario delle poste oppure un collaboratore di società di erogazioni di servizi, quale ad esempio luce, acqua e gas. Ecco, nessuna di queste persone vi chiederà mai di riscuotere somme di denaro direttamente presso le vostre abitazioni oppure di ricevere monili o oggetti preziosi. Ci sono altri accorgimenti da venire a mente. Ad esempio, non aprite la porta agli sconosciuti e soprattutto non fate rientrare in casa, specie quando siete da soli. Nel caso in cui si presenta un soggetto che non conoscete, fatemi mostrare un testerino di riconoscimento oppure, in caso di dubbio, chiamate il 112 in modo tale che appartenente alle forze dell'ordine e forze di polizia in uniforme procederanno all'esatta identificazione del soggetto. Fate attenzione a chi chiede informazioni personali magari mentre state per strada. Fate attenzione ai soggetti che chiedono somme di denaro per eventi che hanno interessato i vostri familiari. Mantenete la calma, prendete tempo e in caso di dubbio non esitate. Chiamate il 112. E purtroppo c'è anche una drammatica notizia, una tragedia sulle coste della Locrida e questa mattina durante uno sbarco avvenuto a Caulonia il cadavere di un migrante, un uomo di 34 anni è stato rinvenuto su un'imbarcazione. Il mezzo con a bordo circa 60 migranti, tutti uomini, si era arenato per poi essere trainato dalla Guardia Costiera nel porto delle Grazie di Roccella Ionica. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare soprattutto le cause del decesso dell'uomo, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe essere avvenuto per cause naturali. Un incendio invece si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio all'interno dell'aeroporto dello stretto Tito Minniti di Reggio Calabria lungo le sterpaglie adiacenti la pista di volo creando evidenti difficoltà in fase di atterraggio e decollo per via delle nubi di fumo. Sul posto sono intervenuti subito i mezzi del Vigile del Fuoco che hanno spento l'incendio. Sulle dinamiche dell'accaduto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine e a proposito di incendi, ieri ci eravamo già occupati della presentazione del piano AIB della Regione e delle azioni messe in campo per contrastare l'emergenza di incendi. Oggi i numeri del rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambienti, riferita al numero degli incendi avvenuti nel 2021, numeri che per la Calabria sono tragici. Ricorderete che lo scorso anno, la scorsa estate, è stata davvero drammatica quando è andata in fumo ben nel 10% del patrimonio boschivo dell'intero Parco Nazionale della Spromonte. Appena ieri la presentazione del piano AIB e cioè l'insieme delle azioni messe in campo dalla Regione per prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi e azioni necessarie è tenuto conto delle difficili condizioni climatiche ed anche del tragico bilancio dello scorso anno quando la Calabria fu letteralmente devastata dalle fiamme, circostanza quest'ultima resa evidente oggi dai numeri e dai dati diffusi dall'ISPRA. Nel report dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale emerge come in Calabria nel 2021 sia andato in fiamme il triplo degli ettari del 2020, con la nostra Regione che in assoluto in Italia ha subito maggiori danni per superficie forestale distrutta. In Calabria la superficie totale di boschi interessata da incendi rispetto al totale delle aree andate bruciate è pari al 37%. Roccaforte del Greco nel Regino è tra i comuni più colpiti a livello nazionale con il 57% del territorio comunale bruciato, dato drammatico poi per l'intero Parco Nazionale dell'Aspromonte con la distruzione del 10% del patrimonio boschivo. Voltiamo pagina, parliamo di buona sanità, adesso andiamo a Crotone dove è stata presentata la nuova TAC tecnologicamente avanzata e soprattutto fondamentale per smaltire le lunghe liste d'attesa con un occhio da parte dell'ASP all'emergenza Covid. Nuova e tecnologicamente avanzata è la TAC acquistata dall'azienda sanitaria provinciale di Crotone presentata ufficialmente in conferenza stampa e già operativa nelle prossime ore. Un acquisto ritenuto fondamentale per garantire l'assistenza necessaria ai pazienti e smaltire le liste d'attesa in un periodo particolarmente difficile per la sanità a causa soprattutto della pandemia da Covid-19. Una macchina ad altissime prestazioni che garantirà un flusso di esami veloce ed accurato con immagini ad elevato contrasto. È un servizio importante che colma anche una carenza. Noi avevamo in dotazione qui una TAC a 16 slide per dire che è il primo tipo di TAC che è stato installato nelle strutture sanitarie che era qui dal 2003, quindi sottoposta ad una usura enorme che comportava anche dei costi per quanto riguarda interventi di manutenzione o di riparazione che non erano più sostenibili. Per cui questa azienda sanitaria provinciale in attesa che venga attuato il piano di ammodernamento tecnologico ha proceduto autonomamente all'acquisto di questa nuova TAC. Un servizio di eccellenza dunque ma l'attenzione resta alta sul fronte dell'emergenza coronavirus. Quindi gli ultraottantenni, ancora ci sono più di 8.000 ultraottantenni che non hanno eseguito la seconda dose booster. L'azienda sanitaria provinciale è da tempo che è impegnata anche attraverso la chiamata attiva per convincere queste persone a somministrare la quarta dose di vaccino che è fondamentale perché ricordiamoci che il vaccino non protegge in maniera totale dall'infezione ma sicuramente costituisce una barriera per quanto riguarda il rischio di sviluppare forme gravi della malattia a cui potrebbero andare incontro proprio questi soggetti collocati in queste fasce di rischio più elevato. Invece di nuova emergenza rifiuti a Corigliano Rossano per occupare il blocco dei conferimenti nell'impianto ed una raccolta differenziata che ormai ferma da tempo al 35% di dettagli nel servizio. Un'altra è stata da incubo a causa dei rifiuti. E' questa la preoccupazione che serpeggia a Corigliano Rossano dove la ECRO, la società che gestisce l'impianto di Bucita, ha bloccato i conferimenti a causa dell'indisponibilità a stoccare gli scarti della differenziata in altri siti. I cancelli chiusi a Bucita avranno infatti un'unica gravissima conseguenza, la spazzatura per strada con tutti gli effetti collaterali generati dal grande caldo. Ad accusare i problemi maggiori sarà come sempre la città di Corigliano Rossano che produce oltre 100 tonnellate di rifiuti quotidiani ed ha la priorità nei conferimenti a Bucita dove tra l'altro nei mesi scorsi erano già state ridotte le quantità da stoccare e l'amministrazione Stasi aveva provato a calmirare la crisi esportando i rifiuti nelle discariche di Alli e la Mezzia Terme. Pagliativo quest'ultimo venuto meno. C'è anche il peso delle difficoltà economiche, la ECRO vanta crediti per 2,3 milioni di euro maturati dalla 2021 ad oggi. Ed infine la crisi segnala anche ritardi nella gestione della raccolta differenziata con Corigliano Rossano che ha una percentuale livello di raccolta differenziata decrescente ed è attestata ad appena il 35%. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a Cosenza per una mostra che celebra e racconta una storia straordinaria, quella della Cattedrale, una storia pensata lunga ben 800 anni. L'ex Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza apre al pubblico la mostra 1222-2022, Tam Antiqua Quam Nova. La Cattedrale si racconta. Non si tratta di una semplice narrazione di fatti che si dipanano cronologicamente ma piuttosto di una storia d'episodi in cui sono gli stessi oggetti a suggerire la trama degli eventi, gli accadimenti, i contesti. L'esposizione strutturata in sezione tematiche si articola in un percorso lineare e cronologico che documenta la stratificazione del monumento nel corso del tempo. Tam Antiqua Quam Nova è una formula di rito che compare spesso nelle fonti archivistiche in cui, tra le pagine degli antichi manoscritti, i due termini si trovano associati per lo più alla descrizione della Ecclesia Catedralis, libro di pietra ma anche cuore pulsante della religiosità collettiva e perno dell'identità cittadina. La mostra riunisce i differenti elementi superstiti di questa storia plurisecolare e ricompone i frammenti in un unico percorso. Un monumento che dagli ultimi studi risulta essere sostanzialmente uno dei più importanti edifici di culto del primo 200 dell'Italia meridionale e quindi europeo. Un monumento che è una storia appunto plurisecolare che vede fasi sempre differenti ma sempre nuove, sempre in voga con i secoli e quindi anche una fase barocca importantissima. Un monumento di cui abbiamo ricostruito le sembianze sia con una ricostruzione virtuale che potrete ammirare sia le sembianze medievali, un medioevo colorato, un medioevo inedito e nuovo rispetto a quello a cui siamo abituati, sia la fase barocca piena di stucchi, dorature, quadri, tutto con un rigore filologico derivante dallo studio d'archivio che ha consentito di reperire una serie di documentazioni totalmente inedita che ha consentito finalmente la ricostruzione di questa immagine perduta. In chiusura, la musica, dopo la fortunata parentesi di Sanremo, il cantautore napoletano Giovanni Truppi è ripartito con il tour live in giro per l'Italia. Il 9 luglio si esibirà all'Aghia Sofia Fest in due, in programma all'Abbazia di Corazzo a Carlopoli. Sentiamo. Sì, ci sarà anche Dario, siamo amici da un po' con Dario, c'è una stima gigante e so che lui è anche molto legato con gli organizzatori, agli organizzatori del festival e quindi sarà un modo di rincontrarci dopo un po'. In realtà ci siamo visti non troppo tempo fa, è venuto a cantare con me al mio concerto di Milano a maggio, abbiamo cantato insieme una canzone che abbiamo inciso insieme che si intitola Procreare e con Dario faremo invece la prossima settimana a Carlopoli prima una chiacchiera, un talk biofilosofico che per fortuna io mi rimetto totalmente nelle mani di Dario perché se non fosse per lui sarei terrorizzato ma invece so che mi divertirò e poi faremo sicuramente qualcosa insieme nel corso del concerto. Bene, con la musica di Giovanni Truppi si conclude l'edizione di questa sera del nostro OTG, come sempre grazie per l'attenzione, vi ricordo comunque le edizioni nel corso della serata, le prossime edizioni del nostro OTG e vi invito ovviamente a restare sintonizzati sull'altro Corriere TV, una buona serata. Grazie per la visione!